L'Orella Cuccarini posa sulla copertina della settimana leggente insieme ai suoi quattro figli. La conduttrice showgirl e ballerina 56enne è orgogliosissima dei suoi ragazzi nati dal matrimonio con Silvio Testi, celebrato nel 91. Ecco Sara, 27 anni, Giovanni, 25, i gemelli Chiara e Giorgio, di 22 anni. Grazie ai miei figli, torno ragazza, dichiarato l'Orella, anche quest'anno volto di amici di Maria De Filippi. Grazie ai miei figli, torno ragazza, dichiarato la scuola, anche quest'anno volto di amici.